Ragazzi, notiziona flash, leggo dalla testata, una delle testate giornalistiche più importanti, Sky TG24, quella che mi fa concorrenza, coronavirus, sceicco del Kuwait, su uno yacht, risulta positivo, è ricoverato a Catanzaro, in chi ha questo che spiega, morirà a Catanzaro, con tutti i soldi che aveva, doveva finire all'ospedale di Catanzaro. Andiamo a leggere l'articolo, uno sceicco del Kuwait, di 71 anni, è stato trovato positivo al Covid-19 ed è ricoverato al reparto malattie infettive dell'ospedale di Catanzaro, quindi non si sa chi è in realtà. L'uomo era giunto nel porto di Tropea, Vibo Valenzi, tra parenti, su uno yacht insieme a due funzionari dell'Emirato Arabo e all'equipaggio nazionalità francese composto da due donne e due uomini. Ora sono tutti in guerra andando a bordo della lussuosa imbarcazione, il personale. Lui è a Catanzaro. Noi facciamo un grande in bocca al lupo all'Emirato Arabo, questo sceicco si deve riprendere per poter uscire da lì e dire che i catanzaresi sono stati bravissimi, bravi, 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 che ha rischiato la vita, sicuro, ma non per il coronavirus. Catanzaro, mamma.